buongiorno scusate ma alcuni cast in direct hanno detto che dovevo subito catturarmi attenzione ciao sono francesco rocchio 24 anni con la barba ne ho 32 la barba così più o meno 24 anni senza barba 12 dipende posso coprire un lungo range di ruoli sono di salerno o appoggio anche su napoli roma milano firenze genova bologna e vieste e pisa e niente io recito canto faccio sport mi diverto insomma mi diverto a guardare gli altri che fanno sport e alzano i pesi che cos'è comunque sono una persona ricca di emozioni dopo nove nipoti nati delle emozioni addosso un bagaglio proprio di emozioni incorporate e sono una persona determinata e testata amo così tanto il mio lavoro che lo pratico insistentemente da 18 anni sì 18 anni questi qua sono i miei profili altri no grazie